Musica Buongiorno amici, noi siamo arrivati a Calampi sul resort vicino San Vitolo Capo Ed è praticamente una roba in mezzo alle montagne, in mezzo alla roccia, è fantastico Siamo a 100 metri dalla riserva dello Zingaro, ci sono un sacco di cose da vedere Mi sono portato il drone, però oggi giornata di assestamento Siamo un po' a fiacchi, però già ho individuato qualcosa da vedere e da farvi vedere Questo giro della Sicilia con porterà degli spostamenti In prima battuta saremo qua in questo villaggio calampiso e poi ci sposteremo verso un altro villaggio E c'è un tramonto pazzesco Musica Finalmente posso mettere un titolo accattivante Ho rischiato di perdere il drone, Nicolò sarà fiero di me Mi si è spento il telefono per aria Stava al 40% di batteria Ho perso il segnale E' apparso una linea bianca E il drone stava là Fortunatamente ce l'avevo sott'occhio e quindi l'ho fatto riatterrare Però che paurina DJ tu mi fai arrabbiare E con questo splendido tramonto venisce qua il nostro primo giorno d'assestamento Domani usciremo dal villaggio e faremo un giretto qua intorno Quindi doccia e ci vediamo domani Ciao Però devi essere felice, capito? Buongiorno amici Perché tu stai qua? Eh, ho dormito qua Abbiamo deciso di andare alla riserva dello Zingaro Che sta praticamente qua a 100 metri E tutti mi hanno detto Ah, incredibile, facci, facci, facci Se non mi piace Mi fate arrabbiare Allora, questo posto è effettivamente pazzesco Vi consiglio di portarvi una bottiglia d'acqua Perché non ci sono modi di bere all'interno Non ci sono bar, non c'è nulla Però c'è da camminare Considerate che tutto il percorso è immerso nel nulla Quindi forse i sandaletti dei cinesi non vanno bene Un'ora? A piedi? Così? Sì, la donnare fa 30 minuti, mi ha detto Andiamo alla callata la donnare Porco miseria Io ti vedo giù per il tirupo Di qua dove si va? Tu cammina È lo stesso paesaggio del Kenya Quanti giorni sono che stiamo camminando Una libellula Vabbè, bagnetto Oggi com'è fredda Eccolo Non smetti di fare la tirenetta, andiamo? Tantico d'ore Però non siamo ancora in cima Ma va bene così Ci sono sentieri che distano 4 ore, 3 ore e 30, 2 ore e 30 4 ore a piedi con questo caldo, forse no Ecco Ok, torniamo alla base Ma io direi di andare a vedere la spiaggia del resorto Dove ancora non siamo stati Dove stai? Eccoti Andiamo Credo di aver fatto arrabbiare uno stormo di rondini Mi stanno seguendo il drone e devo andare a rintamarmi Piscina? Oh yes Uccidetemi Mi vergogno tantissimo Ma che teridico qua Che stupidi piccioni Usciamo Noi dopo una doccetta rigenerante ce ne andiamo a mangiare E domani cambiamo villaggio E andiamo a Torre Artale Quindi a domattina Buongiorno amici Noi siamo in fase di trasferimento Ma prima Sosta cassatelle E quindi queste sono le famose cassatelle Che non sono cassate È caldissima Venga Tanto te dormi che te frega Siamo arrivati al Torre Artale Questa antica villa nobiliare Infatti mi sento anche un po' nobile C'è pure il letto a baldacchino Che bello In questo posto c'è la piscina olimpionica Tipo otto campi da tennis Calcetto Minigolf Il maneggio Come se qualcuno mi volesse dire Fai sport Non mi avrete mai Comunque in tutto ciò Non credo di riuscire neanche a fare una vasca Di questa piscina Sono 50 metri È una piscina olimpionica Non è per me Io sto qua E vi ho gelato Mi prendi il gelato? E dopo aver mangiato Ci andiamo a fare una passeggiata a Palermo Che io non ho mai visto Il problema è che sono proprio cotto Credo di averci tipo Mezz'ora d'autonomia Però non so che succede Questa è la pulceria E mi sa proprio che è la zona della cacciara Tipo a Chiappara Ma quei siciliani Beh se prima ero cotto Adesso sono proprio In condizioni pietose Dopo questa bella gitarella a Palermo Ci ritiriamo nelle nostre stanze Ci vediamo domani Buonanotte Ah buongiorno signori Adio Sono rimasto incastrato Oddio scusa Ah che splendida giornata amici Dov'è il mio cavallo? È la prima volta che accarezzo un cavallo È pazzesco Ciao signore Aiuto È la prima volta che salgo su un cavallo È fichissimo Non me l'aspettavo Oh ciao E anche la giornata di oggi termina qui In realtà noi siamo stati neanche in piscina Solo che c'eravamo la cuffia E non eravamo abbastanza belli Per essere immortalati Oh ma che ci stanno le susine? Vabbè Comunque domani si torna a casa Non sono troppo entusiasta della cosa Però ci saranno un sacco di nuove avventure Indimenticabili direi Come avete potuto vedere Sto mettendo un video a settimana E per tutta l'estate metterò un video a settimana Perché effettivamente sto molto poco a casa Non ho tempo di montare Non ho tempo di girare Bene Per questa mini vacanza Ringrazio Alfio Che ci ha scarrozzato Da destra a manca Ringrazio Mattia e Aldo di Huitin Ringrazio il villaggio Calampiso E il Torre Artale Che è questo dove sono attualmente E che dire Voi mi raccomando Visto che è estate Mettetevi il cappello Bevete tanta acqua Non uscite durante le ore quelle più calde Studi aperto Quello che dice studi aperto è giusto Noi ci vediamo la settimana prossima Con un nuovo video Ciao Grazie a tutti